bene questo è il risultato dopo quattro ore di calcolo circa su una macchina comunque non prestantissima e vediamo sono 96 frame quindi va bene nel senso che comunque come simulazione più che dignitosa vediamo che ci sono delle parti con molta turbolenza questo è solo il domain quindi liquido centrale ed è interessante ci sono delle piccole particelle che schizzano verso l'alto date da la velocity che abbiamo qua però non saranno calcolate in fase di creazione di mesh quindi adesso non ci resta che andare a realizzare la nostri splash quindi andare a inserire gli splash che vanno a creare maggiore dettaglio sul fluido e andremo anche ad inserire la schiuma anche se in alcuni io in alcuni miei video che ho preso andiamo a vedere un po nel dettaglio anche questa questa simulazione magari andiamo in alcuni frame un po diversi ok inserito anche una camera per comodità ecco qui vediamo qui infatti come è interessante il noise che si viene a creare in queste parti ok che si creano anche grazie proprio al fondo come è disegnato il fondo avendo qui sicuramente una roccia o un altro elemento ecco qui difatti avendo qui la roccia il mio fluido va a creare una maggiore turbolenza creando una maggiore turbolenza va a creare anche degli schizzi che sono abbastanza interessanti stessa cosa succede anche qui oltre al fatto che abbiamo anche dei noise attivi qua ok di noi aggiuntivi ed è molto interessante come viene sviluppato tale effetto quindi a questo punto ovviamente qui i mettitori sono ben visibili ma sicuramente in altre situazioni magari si posso si può cercare di nasconderli al meglio o comunque magari si vanno a mettere in posti in punti dove non sono inquadrati dalla camera ok nel mio caso nel caso che abbiamo visto precedentemente li ho voluti inquadrare infatti se andiamo anche in camera sono inquadrati solo perché volevo vedere totalmente la mia simulazione se torniamo prospettiva logicamente io poi posso variare il tutto ovviamente qui è molto bello questo rigangolo che si va questa onda che si va a creare in questo caso in questo modo qui e anche questo qui ok ovviamente adesso andiamo a fare i vari spruzzi i vari spruzzi che si vanno a generare ovviamente andiamo a mettere in cache tutto quello che non ci serve quindi in questo caso il nostro domain lo mettiamo in cache i nostri emitter quindi tutto l'intero gruppo potremmo lo mettiamo in cache